Scatolificio del Garda Scatolificio del Garda è un'azienda familiare nata nel 1969 e il suo nome tradisce facilmente le sue origini come produttore di scatole per il settore calzaturiero. Dopo 50 anni e oltre di storia, Scatolificio del Garda si è trasformata in una cartotecnica altamente specializzata in contenitori per alimenti, sia per il settore della ristorazione collettiva che per l'industria alimentare. Oggi, con la lotta alla plastica e una crescente sensibilità ecologica, il prodotto di cartolcino sta trovando notevole interesse sia in settori molto tradizionali come l'industria del gelato ma anche in altri settori molto più recenti come quello del lattiero caseario in particolar modo mi riferisco ai vasetti yogurt e non ultimo settori completamente diversi, non food come quello dei detersivi, della detergenza e ultimamente anche nel settore della cosmesi. Oggi siamo qui in questa importante fiera per essere vicino ai nostri clienti e per mostrare come il prodotto cartotecnico oggi riesca a coprire tutte le performance richieste dall'industria alimentare. Grazie all'innovazione e allo sviluppo di notevoli tipologie di cartoncino oggi riusciamo a coprire tutte le necessità dell'industria alimentare e non solo, per fare degli esempi dalla catena del freddo alla necessità di avere delle barriere specifiche per l'atmosfera modificata piuttosto che la microondabilità. Il prodotto cartotecnico ha dei plus importanti tra cui oggi più che mai molto sentita la sostenibilità in quanto permette di utilizzare quantità molto inferiori di plastica di essere una materia prima sicuramente sostenibile in quanto rinnovabile e facilmente riciclabile. Grazie a tutti i nostri clienti Grazie a tutti i nostri clienti